Il polo oncologico di Pagani resta una struttura importante, ma non dobbiamo tralasciare la sicurezza per la fretta di inaugurarlo. Queste le parole del commissario ASL di Salerno, Antonio Squillante, che domani incontrerà il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco per cercare di risolvere la questione del piano antincendio, ultimo nodo al pettine, che riguarda la struttura che dovrebbe diventare fiore all'occhiello del territorio per quanto concerne l'ambito sanitario. In settimana dovrebbero arrivare i primi risultati dell'incontro. Un importante incontro invece con il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco per risolvere finalmente la questione legata al polo oncologico di Pagani. Sì, qui a Pagani si è avuto l'intuizione di specializzare sulla oncoimmapodologia e il reparto è quasi completato. C'è un problema relativo al piano antincendio. Io lunedì sono dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco proprio per capire che tipo di problematiche ci sono. Ovviamente senza spingere perché noi dobbiamo garantire la sicurezza ai cittadini, quindi risolvere quelle che sono le problematiche e le criticità per dare la migliore risposta ai cittadini. Noi non abbiamo necessità di aprire a tutti i costi il reparto, sicuramente è una cosa importante, ma lo dobbiamo aprire in sicurezza. Quindi c'è questo confronto rispetto al piano antincendio, ma sono certo che riusciremo a dare quelle giuste risposte. Quindi dalla settimana prossima avremo anche contezza di quelle che sono le questioni aperte rispetto a questa problematica. Spero che il risultato sia positivo così come è stato ieri con il confronto con Morlacco. Incrociamo le dita.